Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono 7 km di coda per il ripristino di un incidente, tra Monte San Savino e Valdarno, e code per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e incisa Reggello, e code in uscita a Firenze Sud. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. In A12, 3 km di coda per lavori tra l'allacciamento con la 11 e Versilia verso Genova. Sulla FIPILI, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze, e code in uscita a San Mignato provenendo da Firenze. A Firenze, per lavori, restringimento di carreggiata in via Senese all'altezza dei civici 93 e 95. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie, buon viaggio!